grazie a tutti cosa posso dire con i vostri commenti a margine del video da me pubblicato ieri commenti in larghissima parte positivi devo ammetterlo insomma mi mi avete commosso ovviamente occorre presentare documentazioni varie e giustamente mi hanno dato tempo al massimo fino a domani per prendere una decisione definitiva su una mia eventuale candidatura per le prossime elezioni europee ritengo che la notte come come spesso avviene porterà consiglio e quindi domani vi farò sapere la mia decisione definitiva in questo video tuttavia vorrei chiarire alcuni aspetti li cito un po alla rinfusa così insomma come mi vengono qualcuno fra i commenti ha scritto prima ci vuole un partito e poi ecco teoricamente avrebbe ragione ma non in questo caso anzi in questo caso vale proprio l'opposto e ora cerco anche di spiegarmi personalmente non avrei mai e mai scritto a caratteri cubitali non avrei mai accettato di entrare in un partito già esistente perché chi più chi meno insomma si sono assoggettati tutti alla schiavitù dell'unione europea ora perché io a suo tempo dopo tante titubanze avevo aderito ad italexit il partito fondato da gianluigi paragone semplicemente per il nome perché dopo le delusioni di chi si dichiarava per l'uscita dall'unione europea a proposito adesso lo dico solo adesso per non ripeterlo più volte allora l'uscita dall'unione europea comporta anche l'uscita dall'euro perché non si può aderire all'euro senza prima aver aderito all'unione europea quindi se si esce dall'unione europea automaticamente si esce anche dall'euro chiudo la parentesi dicevo dopo le delusioni di chi si dichiarava per l'uscita dall'unione europea per poi invece adeguarsi vedi i borghi bagnai movimento 5 stelle e in tempi più recenti anche fratelli d'italia la sola garanzia di non poter tradire mai era mettere nel nome del partito il primo e per me ha sarebbe stato anche l'unico ed imprescindibile punto del programma politico insomma chi si dichiarava italexit in un domani non poteva mai dichiararsi a favore dell'unione europea logicamente lo ripeto ancora per l'ennesima volta io vedevo italexit non come un partito tradizionale ma come un partito di scopo ossia un partito che fosse nato con un unico obiettivo l'uscita appunto del nostro paese dall'unione europea raggiunto il quale non avrebbe avuto più senso la sua esistenza e si sarebbe quindi sciolto insomma un clone dello ukip di farage a mio avviso quindi il nome non è importante il nome è fondamentale e anche questo va scritto a caratteri cubitali purtroppo sapete che la delusione delle ultime elezioni nazionali ha creato un mezzo terremoto all'interno del partito italexit io sono rimasto fuori dalle polemiche non ero candidato in quelle elezioni anche se naturalmente avevo fatto campagna elettorale invitando tutti a votare per italexit quindi comunque anche per me l'esito è stato deludente tuttavia non avevo incarichi all'interno del partito e quindi sono rimasto fuori dalle polemiche che ne sono conseguite naturalmente quell'esperienza mi aveva permesso comunque di conoscere alcune persone che ho stimato e che continuo a stimare e so anche che la mia stima viene ricambiata quindi io mai potrei presentarmi candidato per un partito tradizionale semplicemente per due motivi il primo è che fra i partiti tradizionali nessuno è deliberatamente ed incontrovertibilmente favorevole all'uscita del nostro paese dall'unione europea e questo naturalmente sarebbe già un motivo sufficiente ma secondariamente perché in un partito tradizionale c'è un capogruppo che prende le decisioni decisioni alle quali tutti gli altri parlamentari per disciplina di partito devono adeguarsi ebbene io non potrei mai accettare una cosa simile se entrassi in un parlamento i miei interventi in aula sarebbero solo ed esclusivamente frutto della mia mente e mai e poi mai avrebbero dovuto essere approvati in via preventiva da chi che sia quindi insomma non potrei mai essere in lista per un partito tradizionale ma non basta per quanto ho appena detto io potrei essere candidato solo in una lista nel cui simbolo venga riportata in maniera chiara e da caratteri cubitali la scritta Italexit a questo punto però va anche chiarito che so perfettamente come l'establishment abbia creato non uno bensì due sbarramenti due vincoli praticamente insuperabili che impediscono ai movimenti che nascono così dalle persone normali movimenti spontanei prima proprio di partecipare alle elezioni e naturalmente qua mi sto riferendo in questo caso alla necessaria raccolta di firme in un numero esorbitante e poi se per caso riesci a superare il primo sbarramento quello appunto che ti permette appunto quello di presentarti alle elezioni si va incontro al secondo sbarramento ancora più difficile da superare perché è quello che ti permette di avere rappresentanti in Parlamento e in questo caso ovviamente mi riferisco al raggiungimento del 4% dei consensi per le elezioni europee una percentuale di voti che insomma se non viene raggiunta non ti permette di eleggere alcun rappresentante in Parlamento il primo sbarramento quello della raccolta delle firme può essere aggirato in una certa maniera creando coalizioni con altre formazioni politiche che non è detto abbiano esattamente il tuo stesso programma ma è ovvio anche perché insomma se avessero lo stesso programma allora si formerebbe un unico partito no, lo sbarramento del 4% ce ne siamo resi conto con le elezioni politiche sarà invece quasi impossibile da raggiungere ma qui diciamo entra in gioco la metafora che ho raccontato nel video di ieri ossia sappiamo tutti che vincere alla lotteria è un evento quasi impossibile ma se non si compra nemmeno il biglietto diventa proprio impossibile la coalizione se da un lato certamente ha dei limiti dall'altro può invece avere dei pregi proprio perché non si è legati a logiche di partito è quello che io ho detto ieri queste elezioni europee sono elezioni personali ossia si può esprimere la preferenza scrivendo espressamente il nome del candidato preferito questo è un aspetto veramente importante a mio modo di vedere ossia bypassare la logica di partito che tuttavia deve avere nel proprio simbolo ripeto un'identità ben precisa senza però fermarsi diciamo alla stucchevole polemica sul tu con chi ti presenti lo ribadisco ora e mi immagino per quante volte sarò costretto a ribadirlo in futuro io mi presento con Giancarlo Marcotti quindi se avete delle critiche da fare a quanto sostiene Giancarlo Marcotti non solo ne avete il diritto ma il dovere di farne ma non criticatemi però per cose che possono dire o possono aver detto in passato altri candidati lo so che la mia posizione non è certo politica naturalmente intendo dire politica tra virgolette ma io l'ho già espressa chiaramente a chi mi chiede con insistenza di candidarmi e la ribaderò ancora domani prima di prendere una decisione definitiva anche se ho avuto già ampie rassicurazioni in tal senso ecco va bene per oggi mi fermo qui vi do appuntamento per domani giorno nel quale dovrò necessariamente prendere una decisione definitiva wow Grazie.